Salve a tutti amici tubers e bentornati dal vostro gleditore giallorosso Allora, facciamo un pochino il punto della situazione per quanto riguarda il nostro mister del presente e del futuro Parliamo un attimo di Di Francesco Allora, a quanto pare è palese che la scelta della società è di tenere Di Francesco da qui fino alla fine della stagione Anche perché, pensateci attentamente, se un mister non viene esonerato dopo aver perso 2-0 con la SPAL Perso col Bologna, pareggiato col Cagliari in quel modo, perso 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina Buttando tra l'altro, aspetto che è andato a finire sotto rispetto alla effettiva batosta Andando a buttare l'unico vero obiettivo stagionale ancora una volta A quanto pare Di Francesco rimarrà fino alla fine della stagione Perché se tu non lo hai cacciato adesso, non lo caccerai più Non lo caccerai se perdi con il Milan, non lo caccerai se perdi con la Juve, se perdi con chiunque squadra Perché questo è stato il punto più basso di questa stagione E se tu lo hai confermato tuttora, non penso che tu lo manderai via fino alla fine della stagione E questa scelta si può guardare sotto due aspetti Uno positivo e l'altro negativo Quello negativo è perché comunque tu tieni un allenatore che è palese Che non ha più il pallino della squadra in mano I giocatori non lo seguono, litigano tra di loro E non è mai riuscito, diciamo, a dare il gioco che tutti quanti si aspettavano In realtà la squadra, salvo qualche rara eccezione nella scorsa stagione Ha sempre giocato male, sempre giocato male Ed è per questo motivo che dubito che la Roma riuscirà a riscattarsi fino alla fine di questa stagione E se riusciremo ad arrivare quarti sarà veramente un miracolo Ma sarà comunque un risultato al di sotto delle aspettative che tutti quanti avevamo Guardando però l'aspetto positivo di questa scelta Vorrebbe dire che la Roma non vuole mettersi sulle spalle un altro allenatore Perché in questo momento non puoi prendere grandi scelte Con il rischio che magari te lo ritrovi anche per la prossima stagione Perché parlando un attimo di Paolo Sosa Che è l'indiziato numero uno in questo momento per sostituire di Francesco qua Allora venga esonerato, ma ne dubito È stato congelato, ovviamente non in senso reale Ma perché l'allenatore vorrebbe rimanere anche la prossima stagione L'idea del mister sarebbe stata di firmare un contratto adesso Con rinnovo per la prossima stagione a raggiungimento del quarto posto Quindi qualora fossi arrivato quarto Qualora arriverresti quarto con Paolo Sosa Te lo dovessi tenere anche per la prossima stagione E a quanto pare la società vuole fare una scelta più oculata e più intelligente per la prossima stagione Quindi sotto questo punto di vista non è una scelta neanche troppo sbagliata Anche se il rischio di non arrivare neanche in Champions League E quindi di ridurre i concorrenti per un posto di allenatore È elevato, è molto elevato e a quanto pare è un rischio che sono pronti a cogliere Detto questo ragazzi allora Questo video però è dedicato specificatamente ad una nuova voce Che è uscita fuori nelle ultime ore per sostituire di Francesco dalla prossima stagione Si sta parlando infatti di Maurizio Sarri Maurizio Sarri che in questo momento come tutti sapete sta allenando il Chelsea In questo momento la squadra inglese è quinta in campionato E viene da due risultati molto negativi con due sconfitte consecutive Tra l'altro un 4-0 subito con il Bournemouth Non mi vorrei sbagliare ma comunque un risultato molto molto pesante E a quanto pare l'allenatore italiano Che non sta facendo benissimo alla guida del Chelsea Rischia sia di essere esonerato a campionato in corso Ma, cosa molto più probabile, di essere esonerato alla fine della stagione E quindi diventerebbe una nuova opzione percorribile per la panchina giallorossa E io ho sentito molti commenti del tipo Eh ma Conte è mille volte meglio Eh ma Sarri non mi piace Faceva giocare sempre gli stessi È un polemico Bla 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 Allora, prima di tutto io ho letto dei commenti del tipo Mi tengo di Francesco al posto di Sarri E queste sono cose che veramente non posso sentire Perché a livello di carriera Uno ha fatto mille volte meglio rispetto all'altro E voi mi direte Sì, ma hanno fatto entrambi zero trofei Sì, ma Sarri negli ultimi anni Sia all'Empoli che al Napoli Ha dato un'identità di gioco Sono state due squadre che hanno giocato a calcio Due squadre belle da vedere E anche vincenti È una battuta Cioè voi pensate che è una battuta a dire così Perché dire vincenti Due squadre che non hanno vinto niente A livello effettivo dei trofei È assurdo Però ragazzi, diciamoci la verità Il Napoli l'anno scorso Dicendo soltanto Riferendomi soltanto all'anno scorso C'è un miracolo che si è lottato fino all'ultimo E lo scudetto con la Juve Perché a livello tecnico la Juve era ed è tuttora Molto più forte dei partenopei E se loro non avessero fatto la cazzata Di perdere 3-0 in caso della Fiorentina Che ci può stare o meno Ma comunque loro di lì hanno buttato il campionato Probabilmente se la sarebbero lottata Fino proprio alle ultime giornate Adesso non so se l'avrebbero vinto Però se l'avessero vinto Sarebbe stato veramente qualcosa di incredibile E anche negli anni precedenti Ha riuscito sempre a valorizzare al massimo I giocatori che aveva È vero Negli anni ha sempre fatto giocare I stessi giocatori E questa è stata la prima critica Che è stata mossa Sia quando allenava l'Empoli Ma soprattutto quando allenava il Napoli Però ragazzi Diciamoci la verità La rosa del Napoli Era così grande A livello di giocatori? Secondo me no Secondo me la rosa del Napoli Era fortissima nei primi 11 Però nelle riserve Peccava veramente tanto Cioè poi ovviamente Si può dare più spazio A tutti i giocatori Però La rosa del Napoli Quella era Non era una rosa A livello della Juve Che tu puoi dire Metto un panchinaro È quasi a livello del titolare I panchinari del Napoli Erano veramente Di livello molto inferiore Rispetto ai titolari Quindi posso capire Che lui preferisse Far giocare di più Sempre gli stessi Anche perché poi col tempo È diventato un meccanismo Collaudato E si è visto Perché il Napoli Anno dopo anno È migliorato sempre di più E secondo me Se tuttora è una squadra Di altissimo livello Il merito è soprattutto Anche del mister Che adesso Allena il Chelsea Lo stipendio che prende Attualmente è molto elevato Anche se dubito Che chiederebbe Gli stessi soldi Anche alla Roma Perché comunque Se la Roma Gli proponesse un buon contratto Lui secondo me Accetterebbe Senza troppi problemi È vero Non è Conte Non è Conte Però Noi diamo troppo per scontato Che Conte è un'opzione percorribile Cioè ovviamente Se ci affidiamo Alle voci dei giornali Sembra che potrebbe arrivare anche lui Però Io guardando anche un po' Gli ultimi movimenti Che ha fatto Come andare vicino Alla sede dell'Inter In questi giorni Guardate che coincidenza Secondo me È più probabile Che andrà lui Ad allenare l'Inter La prossima stagione Con Spalletti Che con tutta probabilità Verrà cacciato Alla fine di quest'ultima Perché a meno che non vinci L'Europa League E anche in quel caso Non ne sono sicuro Verrà cambiato Sulla panchina In Azzurla Quindi sotto questo punto di vista Non penso che tornerà mai a Roma Dopo quello che è successo E se Conte dovesse andare all'Inter Per me Sarri sarebbe Una delle opzioni migliori Sarebbe un'opzione Giusta se si vuole vedere Bel calcio Giusta se si vuole vedere Una squadra Che vince Perché voi adesso Lo ripeto Voi direte Eh sì ma non ha vinto nulla Ma Non era facile vincere Cioè poi per carità Ha le sue colpe Non è un allenatore eccezionale Però in questo momento Non possiamo pensare Che Ci sono scelte per forza migliori Perché chi c'è oltre lui C'è Montella C'è appunto Paolo Sosa C'è Ben Guerre Cioè che allenatori sono Cioè non sono allenatori Che ti risistemano una squadra Per me tra tutte le opzioni Percorribili Sottolineo percorribili Sarri è una delle migliori Cioè un allenatore capace Un allenatore intelligente Un allenatore che ha saputo Valorizzare al massimo I propri giocatori Lo ripeto ancora una volta Cioè se Higuain ha fatto Il suo record Il merito è anche di Sarri Perché l'anno prima Higuain era distrutto Perché aveva Sbagliato il rigore In Coppa America Aveva sbagliato il rigore Che ha mandato il Napoli In Europa League Il primo anno di Sarri Siguain ha fatto quel casino Merito ovviamente anche suo Ma soprattutto del mister Che lo ha valorizzato E lo ha difeso Da tutti a spada tratta Poi lasciamo stare Che poi se n'è andato via Però la colpa Non è certo Dell'allenatore Adesso non so di dove Però comunque Dell'allenatore italiano Quindi ricapitolando il discorso È un nome che mi piace È un nome che mi piace Anche se lo ripeto Non è facile Perché Perché non è facile Perché nella situazione attuale Della Roma Prendere allenatori capaci È complicato Però lo ripeto Se la Roma Vuole tenere Di Francesco Fino alla fine della stagione Perché vuole puntare Su un grande allenatore La prossima Allora sono contento Poi ovviamente Bisognerà fare le dovute valutazioni Cioè Se conviene spendere Tanti soldi per il mister Oppure se bisogna Spenderne pochi E più sulla squadra Questo ovviamente Lo faranno loro Perché loro sanno I meglio i conti societari Non posso saperli certo io E spero che li sappiano loro Perché a quanto pare Sembra che non li sanno Neanche loro Ma comunque In generale Se la risposta Se la domanda Che mi volete fare È A me piace Sarri Non a livello Fisico Perché dopo Che fece quel casino Con Mancini Si potrebbe fraintendere Ma comunque A me piacerebbe Vedere Sarri Sulla panchina della Roma Sì 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 Ovviamente Se ci fosse la possibilità Prima di provare A prendere Conte Quello lo considero scontato Che bisognerà provarci Però Visto che la ritengo Un'opzione decisamente Poco percorribile Soprattutto per le ambizioni Che Conte ha Che non penso Siano Di andare alla Roma Almeno nella situazione attuale Sarri sarebbe La seconda opzione Migliore Al momento Sotto tutti I punti di vista Farò giocare pochi giocatori Quello Però secondo me Se ha una squadra completa In tutti per tutti I giocatori Li fa ruotare Cioè non è un allenatore Che si diverte A far spompare I propri giocatori Il problema è che Al Napoli Non aveva riserve adeguate Anche perché Dell'Aurentis Non gliele comprava Lui magari gliele chiedeva E lui diceva Siamo a posto così Siamo primi Che bisogna prendere E dopo giustamente I giocatori si stancavano Ma non è colpa di Sarri Se nei mercati invernali Non arrivava nessuno Cioè Lui i giocatori Quelli aveva E li ha valorizzati E sia all'Empoli Che al Napoli Ricordate queste parole Ha dato Un'identità Di gioco Cosa che la Roma Con Di Francesco Mi dispiace dirlo Perché Di Francesco Umanamente Lo stimo tantissimo Ma non è mai riuscita Ad avere La Roma Dall'anno scorso Ad oggi La dimenticate Roma-Barcellona Roma-Celsi Perché sono partite singole Ma la Roma Non ha uno straccio Di gioco Non ce l'ha avuto Nella prima stagione E non ce l'ha tuttora Ancora di più E questo è un aggravante Maggiore Perché lasciando stare Le cessioni e gli acquisti Ma se tu in due anni Soprattutto al secondo Peggiori Il gioco della tua squadra È colpa loro Ma anche la tua Perché sei andato indietro Rispetto a quello Che avevi all'inizio Perché lui Ha iniziato bene Perché le prime dieci giornate Eravamo in lotta Per i primi due o tre posti Poi siamo crollati E siamo arrivati i terzi Per miracolo Perché già dal Napoli C'è stato un distacco epocale Sarri ha dato identità Alle proprie squadre Sta facendo male in Inghilterra Ma non vuol dire Che farebbe male Ritornando in Italia Quindi Lo vorrei sulla panchina A Roma Assolutamente Sì 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 E basta Credo di aver parlato Anche troppo Volevo fare comunque Un'analisi generale Per quanto riguarda Appunto la situazione Del mister In questo momento Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Voi cosa ne pensate E ci vediamo presto Per un altro video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti